E' giovedì 17 settembre 2015, telespedatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In primo piano la politica sta affetta in consiglio comunale a Bolzano ieri sera tra la dimissionaria Cecilia Stefanelli e Maria Laura Lorenzini. Il sindaco incassa l'appoggio esterno dei Verdi in maggioranza anche se manca l'ufficialità, ma i grattacapi non sarebbero finiti. Ci sono in ballo le due emozioni di sfiducia contro la giunta ed il possibile allargamento della giunta stessa. Ieri sera nella seduta del consiglio comunale di Bolzano si è tenuta la surroga della consigliera dimissionaria Cecilia Stefanelli con la prima dei non eletti della lista dei Verdi, Maria Laura Lorenzini. Il cambio di linea politica legato all'avvicendamento ha portato l'opposizione a protestare, tanto che alla fine solo 34 consiglieri su 37 votanti hanno dato il via libera alla sostituzione, con i tre consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno votato contro. Per Maria Teresa Fortini dei Grilini non si è trattato di una normale surroga, ma la sostituzione di una linea politica. Gli stessi ecosociali che volevano mandare a casa questo sindaco, evidenziato Fortini, hanno mandato a casa la loro candidata. Approvata la surroga, i lavori sono proseguiti con il dibattito ex articolo 31 proposto da Guido Margheri di Sella sull'inceneritore e il decreto sblocca Italia. Ma c'è un'altra questione aperta che il primo cittadino spagnoli dovrà cercare di risolvere nei prossimi giorni e riguarda la composizione della giunta comunale. I Verdi, nel documento presentato alla maggioranza, hanno annunciato di essere contrari ad un allargamento della giunta dagli attuali sette membri e possibili otto o nove assessori, come concordato dalla coalizione durante le trattative. Per il momento il sindaco pare intenzionato ad accettare comunque il veto. Non va infine dimenticato che giovedì prossimo approderanno in consiglio comunale le due mozioni di sfiducia contro la giunta presentate da Lega Nord e Movimento 5 Stelle. I Verdi hanno già annunciato che non voteranno a favore delle mozioni, togliendo alle opposizioni due voti necessari per spodestare la giunta guidata da spagnoli. Ma come visto in questi ultimi mesi tutto è possibile. Al confine di Stato la gendarmeria austriaca si sta preparando per una eventuale reintroduzione dei controlli di frontiera. La società autostradale austriaca Ashfinag ha già installato un cartellone a bordo della carreggiata con la scritta Grenz Übergang Stelle che significa appunto posto di confine. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha reso definitive le condanne dei due ex dirigenti di Sel, Pircher e Stoker, la società si appresta a citarli in giudizio in sede civile e le richieste risarcitorie potrebbero essere milionarie come confermato dal vicepresidente di Sel, Giovanni Polognoli. Si prospetta un conto milionario quello che i due ex dirigenti della società energetica provinciale Sel, ovvero Klaus Stoker, ex presidente, e Franz Pircher, all'epoca presidente del collegio dei revisori della società, potrebbero essere chiamati a risarcire dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha reso definitive le condanne nei loro confronti, ritenendoli colpevoli del reato di truffa aggravata ai danni proprio di Sel. Ora infatti i riflettori sono puntati sul filone dei risarcimenti per i danni materiali ed immagine patiti dalla stessa Sel per la perdita di opportunità derivante dal mancato acquisto della centrale di Mezzaselva, come ci conferma al microfono il vicepresidente della società, Giovanni Polognoli. C'è stata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati dai signori Stoker e Pichler e questo ha comportato la definitività della condanna rispetto a un procedimento nel quale Sel si era costituita parte civile ancora alla fine del 2011 e questo costituisce, tra le altre cose, anche titolo per chiedere i danni che saranno identificati nel mancato utile che la società non ha percepito per non aver potuto gestire la centrale e naturalmente anche nel danno all'immagine. Il consulente della procura, il dottor Pallaver, aveva identificato nell'importo di 100.000 euro circa all'anno il mancato utile per la società e questo per tutta la durata della concessione, sono 30 anni e quindi si può capire che sono tanti soldi, soprattutto perché sono soldi pubblici, cioè la Sel è totalmente partecipata da soci pubblici, quindi sono soldi non incassati alla fine dai cittadini. Si tratta di un danno non secondario, come sentito dal vicepresidente Polognoli ed evidenziato anche dall'avvocato Giacomo Gualtieri, che ha rappresentato la Sel come parte civile nell'ambito del procedimento penale di primo grado innanzi al collegio del Tribunale di Bolzano. Il danno all'immagine è molto importante, è di difficile quantificazione perché i criteri per cui si può arrivare a definire questo danno sono molto incerti dal punto di vista della nostra giurisprudenza, quindi parleremo con gli avvocati e vedremo, però sicuramente tuteleremo la società, i soci pubblici e i nostri dipendenti fino in fondo. Una sentenza, quella della Corte di Cassazione, che pone una pietra miliare importante sulla questione energia che potrebbe avere ripercussioni anche sul processo Steinenstein II ancora pendente per abuso d'ufficio patrimoniale. A questo punto i due ex dirigenti di Sel, Stoker e Pircher possono solo augurarsi che venga confermata anche in appello in Cassazione la condanna di Maximilian Reiner. A quel punto il peso del risarcimento dovrebbe essere perlomeno affrontato in tre. Cerimonia per il cambio del comandante della caserma Guella di Laives, dove il colonnello Stefano Yasson ha ceduto la guida del settimo reggimento carabinieri al colonnello Michele Faccio Russo. Passaggio di consegne al vertice di una delle più prestigiose realtà della benemerita della nostra regione. Stiamo parlando del settimo reggimento carabinieri, distanza presso la caserma Federico Guella di Laives, unità speciale preposta allo svolgimento delle missioni estere, anche di alto profilo operativo, con compiti che vanno dalla polizia militare al mantenimento della pace e all'ordine pubblico nei teatri operativi più svariati, Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Eritrea, Etiopia, Iraq, Afghanistan, Libano, Somalia e via dicendo. Il colonnello Michele Faccio Russo subentra al colonnello Stefano Yasson, che lascia la guida del settimo di Laives dopo quattro anni di comando. C'è del personale molto preparato che per entrare in questo reparto segue dei corsi e supera una selezione. Questo è molto importante per creare un'elite. Il servizio è stato entusiasmante, lascio veramente un reparto di uomini molto molto preparati. Certo, l'emozione è forte perché lasciare dopo tutti questi anni una serie di fratelli, sono il fratello maggiore ma questi sono fratelli, mi pesa dal punto di vista personale. Però vado a comandare il provinciale di Padova, che è un incarico importante, molto impegnativo e questo mi stimola tantissimo e mi dà, credo, proprio la forza, secondo la mia speranza, di fare ancora meglio. Per il colonnello Faccio Russo, che vanta un'importante esperienza nei teatri internazionali, si tratta di una sfida avvincente a assumere il comando del settimo reggimento carabinieri di Laives. Ho cominciato nel 2003 con l'Iraq, ho fatto due turni in Iraq, due turni in Afghanistan, un turno in Libano, un turno in Kosovo, un turno in Bosnia e veramente il mio ultimo incarico ero a Kabul con ISAF e con il reggimento ho lavorato tantissimo, quindi li conosco veramente bene. Quindi conosco veramente l'impegno del reggimento all'estero, sia nelle missioni fuori aria, sia per quanto riguarda anche gli impegni per le varie ambasciate dove i nostri ragazzi sono presenti. Sicuramente lei la sua esperienza all'estero qua la potrà far fruttare? Assolutamente sì, spero proprio di metterla a frutto e di continuare a, come dicono gli inglesi, to improve l'attività e la mia esperienza. Alla guella, di fronte ai reparti schierati, alle associazioni combattentistiche d'arma, alle massime autorità militari della regione, ai rappresentanti istituzionali del comune di Laives, si è tenuta la cerimonia per il passaggio delle consegne con il colonnello Faccio Russo che ha assunto ufficialmente il comando del reggimento. Nel 2014 il Trentino Alto Adige ha raccolto quasi 84.000 tonnellate di carta e cartone tramite i circuiti di raccolta differenziata urbani, oltre 4.000 tonnellate in più rispetto all'anno precedente, la percentuale più alta registrata in Italia. La provincia di Trento è in testa alla classifica, segue Bolzano in crescita del 3,1%, raggiungendogli 80,5 kg per abitante e supera le 40.000 tonnellate annue. È quanto emerge dal ventesimo rapporto annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo di Imballaggi a base di Cellulosica. Da Bolzano a Palermo saranno 21 le città italiane che si sfideranno a distanza nel Giretto d'Italia 2015, una competizione che intende promuovere la mobilità sostenibile. Sono 21 le città che tra oggi e domani hanno deciso di partecipare al Giretto d'Italia 2015, in palio l'ambita maglia rosa della mobilità nuova. Alla manifestazione participerà anche Bolzano, che sfiderà a distanza realtà come Padova, Bologna, Torino, Genova e Palermo. Si tratta di una vera e propria sfida a colpi di pedalate. L'amministrazione comunale, che riuscirà a convincere più persone ad andare in bicicletta al lavoro, ma anche i più giovani a scuola, si aggiudicherà la competizione. A Bolzano i due punti di monitoraggio sono stati posizionati sulla ciclabile che passa al Lido e presso il Ponte Talvera. L'amido della settimana della mobilità sostenibile facciamo un confronto tra le città della mobilità ciclabile. Quindi ci sono diverse città italiane che hanno aderito a questo monitoraggio e fanno questa gara chi ha più ciclisti nella fascia oraria, la mattina dalle sette e mezza alle nove e mezza. Dando uno sguardo ai risultati della passata edizione, si sono confermate regine del Giretto d'Italia 2014, Bolzano, Padova e Reggio Emilia. Proprio il capoluogo al Totesino si è aggiudicato il primo posto. L'obiettivo è promuovere la bici perché è una cosa sana e una cosa buona per l'ambiente. Da evidenziare che questo evento è una delle iniziative più importanti della settimana della mobilità sostenibile. Cassonetto in fiamme nella notte in via del Ronco a Bolzano, l'allarme alla centrale dei visi del fuoco è scattato intorno a luna di notte, l'incendio è stato domato in pochi minuti, senza registrare feriti ma solo danni alla campana di plastica per la raccolta della carta e della plastica, resta da chiarire la dinamica dell'innesco non escluso, infatti il dolo. E questa era la nostra ultima notizia, ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio per parlare di sport. Sanfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Sanfter. Specca Alto Adige Sanfter. Qualità e gusto. Sanfter. Saper fare, saper vivere. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva, l'Hockey su ghiaccio di scena questa sera, la Supercoppa allo stadio Odegaard si affronteranno Asiago e Renon. Fischio d'inizio alle ore 20.30. Entrambe le squadre hanno conquistato rispettivamente questo trofeo due volte. Gli altoatesini hanno alzato l'ultima Supercoppa propria ad Asiago nel 2010, battendo 3-0 i padroni di casa. Passiamo al calcio. Eccellenza. Due recuperi della prima giornata si sono disputati ieri. In trasferta al Mezzocorona a sorpresa ha battuto il Brixen per 2-1. Nel secondo incontro la Rottaliana in casa ha perso 2-0 contro il Calcio Chiese. In testa la classifica comanda il Naturno, inseguito da tre squadre Calcio Chiese Alense e Comano, a seguire la Virtus Bolzano. Ed ora con il supporto della regia andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Secondo gli esperti, meteo della provincia autonoma di Bolzano nel pomeriggio il cielo sarà variabilmente nuvoloso con i primi rovesci in transito. Soprattutto dalla serata e nella notte successiva saranno probabili diffusi rovesci e temporali anche di forte intensità. Domani al mattino saranno ancora possibili dei rovesci o temporali residui. Di seguito il tempo tenderà a migliorare ad iniziare dalla Val Venosta, mentre rimarrà più a lungo instabile sulla Val Pusteria e sulle Dolomiti. Sabato inizierà con locali banchi di nebbia in giornata, il tempo sarà abbastanza buono. Domenica la nuvolosità sarà più presente, in particolare a nord saranno possibili delle piogge. Lunedì prevarrà il sole grazie al fern che espirerà nelle vallate con debole intensità, mentre martedì il tempo sarà nuovamente più instabile. Siamo in chiusura, siamo e saluti. Giusto il tempo di ricordarvi, come sempre, il nostro sito web www.video33.it. L'informazione di Video33 ritornerà puntuale questa sera alle ore 19. È veramente tutto, vi ringrazio la cortesa di attenzione, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Il video 33 è fornito da Boutique Newtime, a Bolzano, Galleria Greif.